Ancora una casa a luci rossa è chiusa dalla polizia di stato in provincia di Ragusa. Questa volta gli uomini della squadra mobile sono intervenuti in via Minardi a Ragusa dopo che alcuni residenti della zona avevano segnalato uno strano via vai da un'abitazione. I poliziotti, non appena arrivati nella via segnalata, hanno individuato l'abitazione, atteso il cliente che uscisse da casa e proceduto al controllo. Dentro vi era una prostituta colombiana di 61 anni, regolare sul territorio nazionale, che esercitava la prostituzione. La donna dichiarava di essere arrivata il giorno prima da Catania, in quanto il suo lavoro la porta a cambiare spesso abitazione. Il cliente è un artigiano ragusano, attualmente in ferie, che ha riferito di essersi trovato lì per caso e che non voleva avere rapporti sessuali a pagamento, ma di essere entrato solo per pura curiosità. La prostituta ha invece riferito di aver ricevuto 50 euro. Al termine degli accertamenti è stato appurato che il proprietario dell'abitazione aveva affittato la casa ad un'altra persona. Questa, ad insaputa dell'uomo, a sua volta l'aveva subaffittata alla prostituta. Considerato il prezzo pagato per l'affitto di una modesta casa, però, gli inquirenti ritengono evidente che il proprietario sapesse dell'attività di meretricio. Tuttavia, al suo carico non è stato raccolto alcun elemento e pertanto l'uomo è stato semplicemente diffidato.